fattere us vabbè iniziamo dai ho detto fattere usi un occo wops potremmo hai abilitato quella roba vero a problemi tecnici wops daisy aspetta enable command block l'hai messo o no era su false aspettiamo questo non è un secondo tentativo no 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 è un primo tentativo mi fai entrare unico tentativo ho appena acceso minecraft ovviamente nessuno si è dimenticato di mettere enable block command true avevo letto una parte del muro non dell'altra ok non è colpa mia ero su false non rompere coglioni vabbè insomma regole sono queste stoppate il video ok ma come questi sono i video settings stoppate il video ok anzi smart attack fatto perfetto fatto e qui c'era un'altra roba però affatto ah c'è vero no vabbè non c'era nessun cartello qui non mi preoccupate oh ma go 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 vediamo se funziona ora si stavolta funziona mi ha crashato minecraft 4 3 2 1 ok mi ha crashato di nuovo minecraft grazie a tutti